bene ragazzi vi devo dire una cosa prima di lasciarvi al game con la pozzo allora da oggi per 20 giorni ci sarà sul mio canale viola dove faccio le live due giveaway rispettivamente di di varus luna della neve e shanai bard ovviamente assieme alla skin c'è anche il campione e la croma verde tutto incluso se non avete il campione non preoccupatevi perché avrete anche quello se vincete il giveaway come fare a partecipare molto semplice io faccio live la mattina e la sera vi lascio con lo schedule in caso volete vedere quando quando lo faccio poi basta che entrate in live io a un certo punto dirò ragazzi adesso faccio il giveaway e estraggo una di queste skin sia la mattina che la sera quindi sono due tutti possono partecipare sia abbonati che non però ovviamente gli abbonati al canale avranno la fortuna avranno molto più probabilità di essere estratti però tutti quanti possono recepare tutti quanti possono essere estratti tranquillamente se non vi è chiaro qualcosa scrivetemi pure e vi do deluci azioni e commenti altrimenti se tutto chiaro ci vediamo in live vi lascio game talk him walk in voice chat oh mamma mia ma da questo lag è impossibile è veramente impossibile questo lag può prendere malzar cut commercial cut to runner infernal soul nessuno può fuggire bella andrea grazie di venti bentornato bella te come ti permette di darmi? come ti permette di darmi? ma guarda te sta sta scostumata dead è forte insomma non proprio eh ma mi ha abbandonato dai ce la puoi fare vai isa ce la puoi fare ce la puoi fare oh nice team poro siamo team poro noi ma che mi conviene fare le mercury qua con troppo prestata danni magici che c'hanno mo c'ho il 6 ora flawless victory allora un altro zed devo fargli capire che è il più forte è un altro zed Grazie a tutti Buono questa strategia You should come to US If you're poor too They pay for your health care I'm not poor And I think I could never leave Italy I'm too used to To our playstyle Eh si playstyle Ma il cazzo dicevo Oh che male l'ho fatto Nooo pezzo di merda Pike Sì ma che palle Bloodmire è un Bloodmire è un segno zodiacale pure qui Sei fattuto Zed amico mio Popper un cazzo Goliath No tecniche Is good Con un gola Yeah Oh Omnisol It's good Omnisol Is good Do not deny me And we're back in 5 4 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 Non ci sono tank grossi grossi quindi Oddio Porco due Quanta vita c'ha questo Vado Quanta vita c'ha Ecco se magari non mi faccio ammazzare Dove morire Dove morire No non farti prendere dalla fiery nooo Cazzo Cazzo Uh Nice Very nice Very nice Very nice Very nice Very nice Tonya Ma in realtà il Serilda non mi serve a un cazzo Cazzo Dammi la mal morta sua Palla vladin bro Palla vladin bro Palla vladin bro Cazzo 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 Dicolo Cazzo 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 Anzi Le barre della vita Non esistono Quindi non lo sapremo mai Pare abbiano vinto loro Ok Collector vai Ora ho 40% crit Cosa posso mettere? Altro di che crit è più una lethality? Niente immagino Però Metterò questo ragazzi Perché ho già 3400 HP Metto l'Atmas Reckoning Zii 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 Buono Minchia Cassio fa male Madonna sono enorme Sono inurrimi 75% crit Non male Non male Minchia 800 da PC Quello cazzo Non mi riuscivo a muovere Beh ma cos'è Vabbè Ma quanto sei curato Vlad Dimmi che schifo Ragazzi Che chi è uscita Ragazzi avete visto di quanto sei curato Siamo Eh ma tanto Allora se non combattiamo noi adesso Siamo sicuri secondo posto Se non combattiamo noi Ok Siamo sicuri secondo posto Io penso vincerà Vlad Perché è broken Bisogna andare su nocturno Subito comunque Eh we must focus nocturno As much as we can Ok Never mind I have nothing else to Con il cappello da un buon Natale Ma che credo Come bisogna giocare la Slow Come bisogna giocare la lenta 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 Così Molto bene Boom Ho vinto con Zed Ho vinto con Zed con 180 di ping Fatemi una statua Fatemi una cazzo di statua Eh mia mamma mi ha chiamato Ho vinto con Zed